Agustin Diofor Il governatore francese è in fido Bastien ci aiuta come può Ma l'indipendenza dei Mahon è lontana Sempre più Un guerriero come te è prezioso per la causa Ti ringrazio Ma servo un'altra confraternita a cui devo fare ritorno appena potrò Ma solo gli spiriti sanno quando accadrà Intanto ho un rifugio e armi da condividere Potremmo allearci per un po' di tempo Che ti serve? Reclute, schiavi liberati I guerrieri possono unirsi a me Mentre gli altri danno vita a una vera e propria comunità Credo di poterti aiutare Verrai ricompensato per ogni aiuto che mi fornirai Meglio muoversi C'è molto da fare Ok, resistenza Liberando gli schiavi ottieni la fiducia delle persone liberate Possono aiutarti con nuove armi e potenziamenti per te E per la tua nave Pagina successiva Recluta Maroon per rafforzare resistenza di in vari modi Possono unirsi alla tua ciurma Infiltrarsi nella piantagione e anche altre munizioni E anche offerti munizioni Ok Ok Dardi d'accordo Recompensa e resistenza Credo di poter O qualche cosa di nuovo oggi Buongiorno E buona fortuna a te Torna Port Prince Andiamo Eh, ce la siamo giocati bene questa volta Siamo giocati veramente bene Noi Facciamole un po' fuori 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 Così almeno vediamo un po' se ci fanno vedere qualche missione. Ah ma non si può più fare il salto dell'offe. Ah aspetta non è che forse... Scendere rapido, non si può scendere. Alla ora... Alla ora... Alla ora... Non, 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 non. Ok. Dovete nascondervi fino al calare del sole. Ah, quindi sono riuscita. Dovete nascondervi fino al calare del sole. Sì, ma come cacchio faccio? Sì, ma come cacchio faccio? Non l'ho mica ben capito. Allora, proviamo ad andare via di qua. Allora, proviamo. Allora, proviamo. Allora, proviamo. Ok. Ah, ecco, qui ce n'è un'altra. Allora, proviamo. Ok. Ok. Capito? Devo aspettare quando ci sono i fuggitivi. persone che si sono ribellate. Capito? Vedi, qua c'è un'altra piantagione. Ah, ok. Ok. Quindi non devo liberare tanto le piantagioni quanto veri, per esempio, questi. guardano. Guardano. come cacchio? Ma sì. Questi schiavi sono in forma sbagliati. No, no. Sì, ma cacchio. Guardate qui. 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 Sì, uuh, uuh! Grazie davvero. Questa volta mi avrebbero ucciso di sicuro. Aiuta anche tu, i nostri fratelli e sorelle. Capalo! Coffi. Sono, sono! Lo so! Dai Dai Vengo a prenderti ciccio aspettami 7 di 20 Perfetto Mi serve un rifugio sicuro Mi serve un rifugio sicuro Allumez l'illusion Ok, vai, vai, vai Mi uccideranno Ok, un altro, dai, faremo questo Ok, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Non, 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 non. Significa che macellaio questa amica. Grazie amico, ti devo la vita. Mi manca l'aria, vai vai, già arriviamo. E' stato davvero molta paura Grazie, ma sai che c'è ancora molto lavoro da fare Eh, è geloso 11 di 20 Ok, quindi allora devo continuare a girare E a cercare schiavi da liberare Benissimo, allora per oggi è tutto Dai Wario 575 E tutto, alla prossima Ciao